Ciao a tutti ragazzi, eccoci con il team di Spazio E-Tech direttamente da Berlino. Sono qua Fabio, Nick, io e Vicky. Oggi, cioè in verità siamo arrivati ieri a Berlino, abbiamo fatto una cena tranquilla con il nostro amico Luca, che lavora da poco da Android Pit, che lo salutiamo. E quindi stamattina, non essendoci eventi pre-fiera, ci stiamo godendo un po' la città. Quindi stiamo visitando i vari monumenti, le varie zone di interesse storico, e stiamo facendo vedere anche un po' la città Nick, che ancora non c'era stato. E quindi, eccoci qua di nuovo in Germania, per me per la terza volta, anche per Fabio. Per Vicky? La seconda volta? Sì. Seconda volta, ok. Ormai la conosciamo a memoria. Esatto, la conosciamo molto bene. Infatti stiamo andando direzione, porta di Brandeburg. Comunque ragazzi, da domani inizieremo proprio a manetta con gli eventi. Già di prima mattina dovremmo avere Acer, se non sbaglio. Acer e Asus. Panasonic, Philips. Però non vi dico cosa ci sarà il 31, perché usciremo pazzi. Comunque ragazzi, secondo voi, quale sarà il prodotto più atteso di IFA? Secondo me è il V30, che ormai sanno già tutti com'è, quindi non sarà proprio una sorpresa, ma sarà quasi una cosa già vista. Quindi quello che aspetti è il V30, io leggi. Per te Nick? Per te, V30. V30. Per te Vicky? Qualche nuova proposta da Predator e Asus Rock, ma per me è anche il prodotto più atteso. E invece per me è il prodotto più atteso, visto che ho un Gear S3 al polso, sarà un Gear S4. Chissà se lo presentano e come sarà. Spero in una miglioria della batteria sicuramente, perché il Gear S3, come sapete bene, riesce a fare a fatica due giorni, un giorno e mezzo. Quindi mi aspetto da Samsung un bel prodotto. E poi sì, anche per me è il V30, dicono che sarà un prodotto abbastanza performante, rivoluzionario per quanto riguarda la multimedialità. Avrà il DAC per tutti. In teoria ci sono questi rumor, dovrebbe uscire anche in Italia, finalmente. Sicuramente, visto che il V20 non era uscito, beh, sicuramente vedremo concretizzare queste ipotesi in questi giorni. Ragazzi, dovete dire qualche altra cosa ai nostri... Che ci saremmo aggiornati sui canali live di Spazio Telegram. Eh, i canali di Telegram. E anche con qualche diretta streaming. Perfetto. Fabio, e tu? No, a posto così. Hai voglia di incontrare qualche nostro collega, blogger? Vabbè, Luca l'abbiamo già incontrato ieri, chissà che nei prossimi giorni incontreremo... Faremo anche nuove amicizie, che alla fine è quello che conta. Esatto. Siamo una famiglia. Esatto, l'importante è non avere rivalità con nessuno, essere amici e non avere problemi. Ognuno percorre come sempre la sua strada. Beh, ragazzi, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo vlog, perché alla fine è stato un vlog, quindi... Ci vediamo presto con i prossimi video, i prossimi messaggi sul canale Telegram, su Facebook, Twitter. Ciao a tutti, raga! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.